Ciao a tutti, questo è un video diverso, mai fatto prima Mi sto recando nella casa di un mio carissimo amico, di Rudy Dovete sapere che io, oltre ad avere la passione di fare video qui sul web Ho soprattutto la passione del cinema Oggi, 29 novembre 2017, è uscito un trailer che io, come moltissime persone, stavamo aspettando da chissà quanti mesi Parlo del trailer di Avengers Infinity War E quindi sono qua, pronto a vedere questo trailer Permesso Prego To see if we could become something more So when they needed us, we could fight the battles That they never could In time Dread it Run from it Destinie still rhymes Evacuate the city And get all defenses And get this man a shield Fun isn't something one considers when balancing the universe But this Does put a smile on my face Who the hell are you guys? And get this man a shield It's not It's enough Comunque ragazzi, noi abbiamo bisogno di un attimo adesso per rimettersi a sapere un attimo cosa succede nel mondo Non riguardo Vi saluto, ci vediamo presto